L'immondizia ci sta salpallendo vivi! Perché il traffico? Non si può più camminare! Vedrai che questo paese lo aggiustiamo. La gente è stanca e ha voglia di cambiamento, sono tutti con te! Al nuovo sindaco! Cambiare è possibile! Sì! Oggi tutti insieme cominciamo una nuova storia! Però Pierpaolo è stato chiaro, ha detto il progetto deve essere regolare. Ah beh, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare. Tutte ve le dovete portare, così facciamo pulizia! A tu il permesso per vendere frutta e verdura, che te l'ha data? Io faccio! E l'euforia dei primi giorni, ma vedrete che Pierpaolo tornerà normale! Anche a noi giustamente ce l'ha raddoppiata l'immondizia. Sono cornuto! Democrazia che vuoi che sia, non ti arrabbiare! Signori, sta rovinando un paese! Ma qua l'abbiamo votato tutti, non è che si fa così! Loro ce lo dovrò dire che questo era onesto veramente! Ci sono tante cose ancora da aggiustare. Più di queste! Ha introdotto la differenziata! Tutti imboscati, vigili urbani, operatori ecologici. Stanno controllando cartellini e presenze degli impiegati! Oh, i tazzini! Ho capito! Ma voi a Milano, i tovaglioni sporchi di sugo, dove li buttate? Ma come cazzo vi è venuto in mente di votare uno onesto? Ti scanniamo e mettiamo le budella nell'umido e le ossa nell'indifferenziata! Ma che hai fatto la minaccia ecosostenibile? E ormai c'ho l'abitudine, salvo! E ormai c'ho l'abitudine, salvo!